Come gestire i termostati con la pompa di calore, senza metterla in crisi, ma allo stesso tempo avere il comfort in casa? Beh, lo vedremo oggi in questo video e se non l'hai ancora affatto iscriviti al mio canale YouTube e clicca sulla campana a fianco per ricevere in anteprima tutti i miei prossimi video. I termostati ambiente sembra un argomento così semplice perché basta settare la temperatura in casa che vuoi e tutto funziona. Ma in realtà non è poi così semplice perché è uno dei motivi principali per cui le pompe di calore fanno molte, molte accensioni e riducono la vita del compressore. Infatti la vita del compressore è legata sia al numero di ore di funzionamento ma anche dal numero di accensioni che viene fatto nel compressore. Allora oggi vedremo le tre principali tipologie di termostati, cioè il termostato on-off o differenziale, il classico insomma, quello più comune, il termostato proporzionale oppure i sensori ambiente che sono fornite a corredo con la pompa di calore. Ecco facciamo un'escursione con parole semplici e vediamo quali sono i punti di forza e le criticità per gestire al meglio la pompa di calore. Prima però lascia che mi presenti, io sono Samone Trento, ingegnere meccanico che si è specializzato nel mondo delle pompe di calore e aiuto le famiglie a vivere senza gas, cioè a togliere il contatore e a trasformare la loro casa in 100% elettrica e tutto questo grazie alla rete di sigillo sicuro. Torniamo all'argomento del video, beh mi scuseranno i tecnici perché userò parole semplici, perché l'obiettivo di questo canale è divulgare il tema delle pompe di calore e trasmettere concetti difficili anche alle persone che fanno tutt'altro di lavoro. Ma allora qual è il vero obiettivo del termostato? Beh il termostato permette di scaricare l'energia prodotta, l'energia termica prodotta dalla pompa di calore all'interno di casa e mantenere ovviamente una sensazione di comfort all'interno di casa, cioè quella temperatura ideale che una famiglia è abituata a vivere all'interno della propria abitazione. Ma il tema che ci riguarda oggi sulla pompa di calore è quello di evitare montagne di accensioni della pompa di calore, eccessivi attacca e stacca, on off, chiamali come vuoi, però insomma l'obiettivo è stare sì bene in casa, ma anche evitare di continuare a accendere, accendere, accendere la pompa di calore. E perché succede questo? Beh, prima vediamo le tre tipologie di termostati e poi andiamo un po' a ragionare su come possiamo lavorare al meglio con la nostra pompa di calore. La prima tipologia è il classico termostato on off, differenziale, che quasi tutti hanno in casa, con la rotellina piuttosto che col display, con il quale puoi impostare la temperatura che vuoi all'interno dell'ambiente, quindi 19, 18, 21 gradi, e l'isteresi, cioè la differenza di temperatura sotto la quale parte il circolatore dell'impianto, cioè torno a riscaldare l'ambiente. Faccio un esempio, posso impostare 20 gradi in casa con un'isteresi di 0,5, cioè la pompa di calore, o meglio ancora il circolatore dell'impianto, si attiverà non quando ci sono 19,9 gradi, ma bensì quando ci sono 19,5 gradi, cioè 0,5 gradi meno rispetto alla temperatura impostata. Ecco, questa è l'isteresi, 0,1, 0,3, 0,5, 1 grado, ad esempio imposto a 20, e il circolatore si accende a 19. Questo ovviamente posso farlo su un termostato base, 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 oppure anche di quelli programmabili, dove decido, a seconda della giornata, a seconda della fascia oraria della giornata, a che temperatura tenere in casa. Ecco, questo è uno dei termostati base più utilizzato in assoluto, perché appunto è di facile utilizzo. Imposto una temperatura e il circolatore dell'impianto, quello che mi porta l'acqua calda all'interno dei termosifoni, all'interno dell'impianto a pavimento o del soffitto, acqua calda che viene prodotta dalla pompa di calore, o da una cadeia simile, perché il termostato è sempre lo stesso, mi farà partire questo circolatore quando appunto scendo sotto queste isteresi. Posso trovarmi in casa anche a una temperatura più alta rispetto a quella impostata. Se ad esempio ho 20 gradi, potrei trovarmi 20,3. Perché? Perché c'è da considerare l'inerzia dell'impianto. Perché è vero che la pompa, cioè il circolatore, si ferma quando raggiungi i 20 gradi, ma ho, ad esempio, i radiatori ancora caldi, oppure ancora il pavimento caldo, perché il massetto sotto il pavimento è ancora caldo, e lui continua ad erogare calore. Quindi magari ho i termosifoni che si sono fermati, sono ancora caldi, quindi continuano ad aumentarmi la temperatura all'interno di casa. Può essere piacevole, come può essere anche per qualcuno un po' meno piacevole, perché qualche famiglia può dire, io voglio 20 gradi precisi, e questi non si toccano. È vero anche che stiamo parlando di qualche decimo di grado, quindi non casca il mondo, ecco, se riscaldiamo casa leggermente di più rispetto a quanto abbiamo detto. Beh, comunque sappi che per risolvere questo problema, nel tempo sono arrivati anche i termostati di tipo proporzionale, cioè un po' più intelligenti rispetto a quelli tradizionali. Cosa fanno questi termostati? Beh, quando si avvicinano alla temperatura impostata, i termostati staccano il circolatore che fa girare l'acqua prima per alcuni minuti. Faccio un esempio semplice perché è più facile da capire rispetto alla teoria. Ipotizziamo quindi di impostare 20 gradi all'interno dell'ambiente con la solita isteresi, quindi ad esempio 0,5. Beh, cosa succede? Mentre nel tradizionale termostato, finché non ho raggiunto i 20 gradi, il circolatore continua a girare, in quello proporzionale, ad esempio su 10 minuti, 3 minuti fa girare il circolatore, e gli altri 7 rimane fermo. Più mi avvicino alla temperatura impostata e più tengo spento il circolatore finché non raggiungo la temperatura impostata. Magari mi allontano invece, sono a 19 gradi rispetto ai 20 impostati, ecco che il circolatore girerà per 7 minuti e per 3 rimarrà fermo. Mi ritrovo magari a 17 gradi, stanza piuttosto fredda, beh, il circolatore andrà in continuo. Ecco perché è proporzionale. Perché il tempo di attivazione del circolatore viene definito in base a quanto sono vicino alla temperatura impostata. Ecco, sicuramente un passo in avanti, ma in diversi casi ci siamo trovati con alcuni problemi legati a questo tipo di termostato e dopo ti spiegherò perché. Da un punto di vista energetico del sistema edificio-impianto tutto questo è perfetto, soprattutto sulla carta, perché sfrutto l'inerzia termica del pavimento piuttosto che dei radiatori, come dicevamo prima, per avvicinarmi sempre di più alla temperatura impostata. Ma abbiamo il rovescio della medaglia. Qual è? La pompa di calore riceve continui segnali di attacca e stacca, soprattutto quando siamo in prossimità del punto impostato, della temperatura impostata. Abbiamo trovato diversi casi in cui la pompa di calore si accendeva molte volte durante la giornata appunto per questo. Perché? Perché il termostato chiama per 3 minuti, rimane fermo per 7, faccio un esempio, e poi così via. Che da un punto di vista energetico, ripeto, potrebbe essere interessante, ma poi nella realtà questo va ad influenzare moltissimo l'utilizzo della pompa di calore. E allora con questo cosa voglio dire? Che dobbiamo avere un occhio di riguardo anche nella realtà e non solo sulle schede tecniche e nella teoria. E trovare il giusto compromesso, il giusto bilanciamento per far lavorare termostati, avere comfort in casa, ma anche allungare la vita della pompa di calore. Tornando un attimo al termostato differenziale, quello on-off, lì è fondamentale lavorare sugli stersi. Cioè non posso pretendere di impostare una temperatura e avere 0,1 grado di stere. Cioè a 20, appena scendo sotto il 19,9, tac, il termostato chiama. No, perché questo comporta un continua chiamata anche della pompa di calore e continue accensioni del compressore. Dobbiamo trovare anche qui dei giusti compromessi che vedremo verso la fine. Faccio l'ultima categoria, cioè i sensori di temperatura che vengono forniti già dalla pompa di calore. Diverse pompe di calore hanno i propri sensori di temperatura, i propri termostati che lavorano in maniera completamente diversa dal classico termostato piuttosto che da quello proporzionale. Faccio un esempio. Noi con le pompe di calore siamo abituati a sensori di temperatura con anche abbinata all'intelligenza artificiale. Che cosa fanno? Sì, vanno a monitorare la temperatura all'interno dell'abitazione, della singola stanza o della zona, ma regolano la temperatura dimandata nell'impianto in base a come vive il cliente in casa, cioè alla sensazione sua di comfort. In tantissimi casi abbiamo impostato pompe di calore su radiatori magari a 55-60 gradi e poi ci siamo ritrovati che lavoravano a 48 dopo qualche settimana. Perché? Perché la pompa di calore in maniera autonoma vede che anche con 48 gradi di mandata il cliente sta bene in casa nella temperatura impostata. E questo non è legato alla curva climatica. Questa è un'altra cosa. La curva climatica va a definire la temperatura dell'impianto in base alla temperatura esterna. questo si aggiunge ulteriormente alla temperatura e alla curva climatica perché va a lavorare proprio su come risparmiare il più possibile energia elettrica con la pompa di calore. Se poi questo lo abbini anche alle previsioni meteo, cosa che facciamo, cioè se prevedo che domani la temperatura scende drasticamente, non lo prevedo io, ma lo prevede la previsione meteo, ecco, l'intelligenza artificiale va a riscaldare casa maggiormente il giorno prima in modo da avere un COP più alto ma soprattutto non trovarsi il giorno dopo impreparato con la casa fredda e fuori la bufera di neve. E tutto questo sì che è fantastico perché? Perché vado a trovare una simbiosi tra edificio e impianto ma anche pompa di calore e comfort in casa. Qui ho il massimo della resa energetica ma anche del comfort abitativo. Bene, allora, abbiamo visto i tre tipi principali di termostati ma quali sono le azioni che posso fare a casa mia per allungare la vita della pompa di calore e quindi ridurre il numero di accensioni? Beh, sicuramente lavorare su un buon volano termico cioè sul puffer di acqua tecnica. Il giusto compromesso non troppo grande ma non troppo piccolo in modo che la pompa di calore rimanga accesa il più possibile al minimo magari e anche se l'impianto sta spillando energia cioè se sto facendo girare acqua nei radiatori o nell'impianto a pavimento magari in poche zone quindi lavorare bene sulla quantità di acqua che faccio girare all'interno del mio impianto e poi devo lavorare bene sul sistema di distribuzione quindi termostato tradizionale aumentare l'isteresi e lavorare bene sulle fasce orarie cioè non far accendere la pompa di calore subito appena si abbassa di 0,1 0,2 gradi ma aumentare questa questa isteresi e verifica quante testine sono aperte nel tuo impianto le testine sono quelle che aprono e chiudono le varie valvole per far girare l'acqua nelle diverse zone dell'impianto perché? perché posso ritrovarmi e spesso accade soprattutto nelle nuove abitazioni o quelle isolate che la pompa di calore è stata progettata per l'intera casa per scalare tutta la casa e poi c'è solo una serpentina dell'impianto da pavimento che fa girare l'acqua oppure solo due radiatori su dieci e questo è un inconveniente perché anche al minimo della sua potenza la pompa di calore non riesce a dare sfogo alla sua energia termica cioè non riesce a scaricare l'energia termica nell'impianto e così è costretta a spegnersi costretta a spegnersi significa che poi è costretta a riaccendersi e quindi vado ad aumentare il numero di accensioni e spegnimenti della pompa di calore e infine controlla quante accensioni che quasi nessuno lo fa quante accensioni fa la pompa di calore in una giornata sia in pieno inverno ma anche nelle mezze stagioni perché? perché potresti ritrovarti che la pompa di calore si accende 30-40 volte al giorno e non ti sto dicendo uno scherzo ma l'ho visto con i miei occhi e questo comporta sicuramente una riduzione della vita del compressore e quindi della pompa di calore quindi ricapitolando lavora bene sui termostati e lavora bene sull'impianto di distribuzione cioè sulle testine cerca di lasciare più testine aperte compatibilmente con quello che hai bisogno in casa affinché la pompa di calore una volta accesa rimanga accesa magari al minimo ma non faccia un sacco di accensioni la parola d'ordine ricordati è lascia scaricare energia alla pompa di calore grazie a tutti